Attualmente sono nove in totale gli anziani positivi ma con sintomi leggeri ricoverati nell'apposita sezione della RSA dell'ospedale di Venafro. Vengono assistiti da infermieri e OSS a loro riservati in esclusiva. Un caso, quello dei pazienti positivi al Covid, trasferiti al Santissimo Rosario, che ha avuto anche un eco in consiglio regionale, lì dove Vittorio Nola ha portato il caso all'attenzione del cosiddetto tavolo Covid. Il consigliere 5 Stelle ha posto delle domande sia a Toma che al direttore Florenzano e dalle risposte si è appreso che l'utilizzo della RSA Covid di Venafro è stato deciso in ambito del tavolo di crisi regionale, dove siede anche il presidente della provincia di Sernia e sindaco di Venafro, Alfredo Ricci. Inoltre, e qui c'è la novità che potrebbe interessare Larino, a Vittorio Nola è stato riferito che anche la RSA larinese sarà utilizzata per pazienti Covid se quella di Venafro dovesse riempirsi. Insomma, Venafro è al centro della discussione, con un ruolo preciso del sindaco Ricci, che era a conoscenza dei nuovi trasferimenti e che risponde così. È stato disposto il trasferimento dei pausi sintomatici, quindi l'attivazione dell'RSA per i Covid appunto con pochi sintomi. Quelli che non possono stare più in malattie infettive o non hanno sintomi tali da portarli nel reparto di malattie infettive e che tuttavia hanno delle situazioni che rendono necessaria l'assistenza in un ambiente che sia diverso da quello domiciliare. Noi, per carità, raccogliamo con fiducia e in una logica solidaristica questa scelta, però lo diciamo ancora una volta, lo abbiamo detto, questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Noi all'ospedale di Venafro dobbiamo aggiungere, non dobbiamo togliere. Quindi io mi auguro, ma su questo, gli interventi che stiamo facendo in questi giorni e in concerto sempre con il Comitato Santissimo Rosario come amministrazione comunale, sono netti nel senso di spiegare che siamo pronti a fare anche il sacrificio come territorio legato al momento emergenziale e alla necessità di dare cura e assistenza ai cittadini che sono in questa difficoltà e tuttavia il Santissimo Rosario non può essere una struttura a cui rivolgersi soltanto nei momenti di difficoltà e per tamponare le lacune o le emergenze che si verificano nei vari momenti. Siamo disposti a dare il nostro contributo, ma ci deve essere un rilancio forte a livello di RSA, di lungodeggenza, di hospice, di poliambulatori, di punto di primo intervento, altrimenti io non sono sicuro che continueremo ad avere questa collaborazione che abbiamo avuto finora.